L'istituto comprensivo Mattia Preti di Catanzaro presenta il progetto Erasmus Plus, titolo Put a friendship opportunity for obscuring disadvantage Questo progetto Erasmus, di cui il nostro istituto è coordinatore, è un'importante occasione formativa che la scuola vuole offrire ai propri alunni e sarà un'occasione di crescita sia in termini di competenze sociali che di apprendimento. Per tutti gli studenti partecipanti, siano essi ambasciatori o progettisti. Partneri in questo progetto sono le scuole di Grecia, Creta, Agios Nikolaos, Italia, Battipaglia, Polonia, Kuzinsk, 100 km da Danzica, Portogallo, Seixal, 23 km da Lisbona, Romania, Dumbraveni, 300 km da Bucharest. Per ogni mobilità partiranno 5 alunni che saranno accompagnati da due docenti. Gli alunni soggiorneranno queste famiglie accuratamente selezionate dalle scuole. Questo al fine di favorire una reale comprensione della cultura del posto e approfondire la conoscenza che sarà già avvenuta tramite le videoconferenze, il forum e la chat del Queen Space. Durante la mobilità, gli alunni frequenteranno la scuola ospitante per svolgere attività. Visiteranno luoghi di interesse artistico-culturale, parteciperanno a feste tradizionali e allo spettacolo organizzato dalla scuola. Prepareranno ricette tradizionali, saranno sempre seguiti dai docenti e accompagnatori e rientreranno in famiglia la sera. A maggio 2020, la nostra scuola ospiterà 27 alunni e 10 docenti, provenienti dalle scuole partner. Con loro svolgeremo attività a scuola, andremo a visitare la città di Catanzaro e altri luoghi di interesse artistico-culturale. Organizzeremo un spettacolo e una cena con piatti tradizionali preparati dalle famiglie. Diceva William Odin Carter, uno scrittore americano, ci sono due cose che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli, le radici e le ali. Noi, come scuola, vorremmo offrire loro le ali. Buon progetto Erasmus a tutti!